Per le vostre libere ricerche dal sito web www.tinelli.eu scorrete col menu a tendina che trovate in alto a destra per approdare al fornito indice alfabetico dove trovate oltre 2500 voci dei video con le mie ricerche o le mie traduzioni per fare le vostre indagini personali e scoprire la fantastica palla della palla. Per i pigri le pigre indottrinati le indottrinate i credenti le credenti rimanete pure a crociolarvi come una rana bollita nel sistema menzognero ma per i curiosi le curiose avete a disposizione la possibilità di sollevare finalmente il pesante tendone che nasconde il retro della scena dove vi attende la verità e la verità vi rende liberi, libere. Gente, è il top essere un astronauta, si può fluttuare nello spazio, osservare la terra in basso ed altro, è così bello, si chiama caduta libera, in realtà stai cadendo verso terra, ma fai questo ogni volta che orbiti la terra. Prendi un cannone, lo metti sopra una collina, immagina se spari veramente molto molto forte, gira tutto attorno alla terra e ritorna e boom, colpendoti alla schiena. Immagina considerando che il nord è in alto e cadi e colpisci la terra, ma in realtà ti muovi di lato velocemente così quando cadi mancherai finendo sul lato della terra. Cadendo verso la terra ti spinge di lato, ti tira mentre cadi e così la mancherai nuovamente e finirai sotto la terra che ti spingerà verso l'alto, ma ti muovi ancora di lato. Così mancherai nuovamente la terra e finirai sul lato opposto della terra, muovendoti in su mentre la terra ti spinge di lato, così mentre cadi di lato ti muoverai mancandola e finirai ancora in cima alla terra. Pensa, il polo nord muovendoti di lato e cadendo in basso e adesso indovina, continuerai a mancarla perché ti muovi molto molto velocemente in questo modo gli astronauti orbitano la terra continuando a cadere verso la terra, ma sempre mancandola. Tecnicamente se corressi abbastanza velocemente e inciampassi mancheresti la terra. Pensa, il polo nord muovendoti di lato e cadendo in basso 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 e cadendo in basso. E' qua quindi i metto anche nei fakes da stemmiaren di base. Gli amico in basso e cadendo in basso non ci sono coldiscono perchale spiegando in basso e cadendo in basso e cadendo in basso. Machete si parvo quella da dicirai di e cadendo in basso per la terra, ma daily dag? Qui hanno battuglia di metà erilino delle pal Um, we've got an up ways to go, but a sideways to get there. I'm eastbound, just watch this rocket dump. Woo! Daddy, why don't they have like a camera view of the earth so we can see ourselves down here? They have that, son. Where is it? It's top secret. It's above your level. Have you ever seen it, Daddy? Shut up, son. Eastbound and down, loaded up and dumping. When we use balloons, it's just for fun. Daddy, what now, son? Why don't we see video of it? What do you do, son? Just watch it on the TV. But, Daddy, those are cartoons. They're animations, son. Animations. Learn the difference. Hold my hat. Eastbound and down, just watch that animation. We're going to draw it up scientifically. It's for you to see and you to believe it. Just, we draw it up and you're going to eat it up and believe it, yeah. Daddy, how much longer do I have to hold your hat? Shut up, son. I'm waiting for the ISS to fly by. There it goes. Hello, planet Earth. I'm NASA's Kate Rubins, along with my Expedition 64 crewmates aboard the International Space Station. We wanted to take a moment to wish all of you a very happy new year. One of the few, few, see us. We hope be, two, one. Happy New Year! Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato e-book, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero.